L'incremento dei casi positivi su tutto il territorio regionale, così come sta accadendo a livello nazionale, ha innalzato la soglia di preoccupazione tra le persone che vorrebbero evitare nuove restrizioni. Notizie confortanti però arrivano dai medici, i quali confermano che questo nuovo picco di casi è attualmente sotto controllo. I vaccini, da oggi gli over 40 possono prenotarsi per la terza dose, resta comunque l'unica arma a nostra disposizione per arginare questa pandemia. Fortunatamente grazie ai vaccini la situazione è sotto controllo perché chi si ammala ed è vaccinato, anzi chi si infetta ed è vaccinato non si ammala. In questa quarta ondata i più colpiti dati alla mano sono i più giovani, soprattutto sotto i 12 anni, fascia d'età ad oggi non vaccinabile. I soggetti al di sotto i 12 anni non si possono vaccinare perché ancora in Europa arriva l'ok dell'agenzia regolatoria che è l'EMA affinché anche loro possano essere vaccinati. Fortunatamente sappiamo e lo vediamo quotidianamente che i bambini difficilmente ammalano però purtroppo fanno circolare il virus. Nei giorni scorsi si è parlato, l'ha detto anche il presidente Marsilio, di un Abruzzo che può essere sicuro fino a Natale perché è in zona bianca. Ci si può sbilanciare così tanto? Io penso di sì, perché vediamo che tutto sommato le ASL stanno conducendo un'opera importante di vaccinazione, di contenimento, di tracciabilità, di tracciamento dei casi e di gestione di prevenzione degli stessi. Due i fattori, secondo gli esperti, che stanno tendendo una grossa mano al nostro territorio. L'essere una regione non altamente popolosa è dunque più facilmente gestibile, oltre alle temperature anomali per il periodo registrate nelle ultime settimane. Il clima impazzito fa sì che a novembre o dicembre le temperature siano alte, ma in questo caso non farebbero il gioco del virus. quindi tutto sommato io penso che passeremo un Natale abbastanza tranquillo.